I supereroi vigilano quando il pericolo è in agguato e salvano chi è in difficoltà. Ma un'altra cosa li accomuna. Non si mostrano mai al mondo, tranne Ulisse. Tutti i supereroi hanno un comune scopo. Non sempre capiamo subito quale sia. Perché non sempre sappiamo dove cercare. Flora! Mi dici cos'è? Io sono Ulisse. Sono rinato. Per tutti gli eventi più in attesi della Terra! L'hai scritto a macchina. È un supereroe. Cosa? Tu hai qualche nemico? Sono qui per lo scogliattolo. Il pericolo è sempre in agguato. Lui sta... Lui vola! L'aria stava cambiando. E il mondo... era in pieno fermento. Corri, 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 corri! Ehi, chi ha fame? Adesso? Andiamo! Ulisse! La gente cerca nel cielo qualcuno che la salvi. Quindi l'universo ci ha inviato... Ulisse. Stai parlare! Ok, non si capisce che dici, ma quasi! Grazie a tutti per customs!